salve a tutti e benvenuti sul mio canale in questa recensione vi parlo di tutto ciò che riguarda veri mobile preggi e difetti punti di forza e punti deboli del nuovo gestore telefonico secondario del gruppo win3 l'ultimo b brand dopo kena di team e o di vodafone prima di andare avanti vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video saluto come sempre gli amici di digitabile.blog e gruppi telegram malati di smartphone e malati di smartwatch a questa veri mobile come si comporta funziona bene è davvero conveniente perché fare una sim veri mobile e non una win3 insomma cercherò di rispondere in breve alle domande più frequenti su questo nuovo operatore telefonico raccontandovi cosa ne penso personalmente di veri mobile veri mobile dunque è un nuovo operatore low cost con cui win3 ha voluto potenziare la sua presenza sul mercato veri mobile con piani tariffari ricchi di gigabyte chiamate sms limitati si può in concorrenza soprattutto con operatori come liad kena mobile e omobile dal punto di vista tecnico veri mobile è un operatore virtuale si tratta di un brand secondario quindi b brand di win3 si utilizzano sim e messe proprio da win3 sulle quali ha posto il veri veri mobile è senza dubbio un gestore molto conveniente come lo sono gli altri band secondari già citati ovvero kena e o ovviamente la scelta tra questi va ad orientarsi sulla base della rete preferita quindi quella che garantisce maggior copertura un discorso generale che va fatto su veri mobile e sui b brand però si può fare hanno tariffe talmente interessanti che rischiano fortemente di fare concorrenza interna ai gestori che li possiedono ecco quindi che le compagnie telefoniche cercano in tutti i modi di distinguere i clienti di serie a dal gestore madre rispetto a quelli di serie b del marco secondario quindi parliamo di assistenza meno efficiente meno servizi e quindi veri mobile dovete essere consapevoli di essere un po di clienti meno coccolati rispetto a win3 e diciamo sono rinunce accettabili se l'idea di base è quella di risparmiare anche la politica dei limiti relativa alla velocità di download fissata a 30 mega secondo da inserita in questo contesto di fatto la sim veri essendo tutti gli effetti una sim di win3 potrebbe sfruttare la rete 4g a pieno regime il blocco serve più che altro a creare una differenzazione di trattamento da due tipologie diverse di clienti quella di win3 e quella di veri veri mobile è un operatore virtuale quindi l'attivazione di una nuova sim si può fare comodamente online tramite l'identificazione del cliente e quindi tramite webcam e tramite fotografie di documenti di identità si paga tramite carta di credito e la sim arriva a casa in due giorni lavorativi oppure potete attivare la sim veri mobile presso tantissimi negozi che distribuiscono multimarca io sono andato presso media world ho attivato l'offerta di un nuovo numero con chiamate e messaggi limitati e 130 gigabyte di internet a soli 7 euro e 99 una volta ricevuta la sim non si fa altro che scaricare l'applicazione veri mobile che veramente ben fatta ed è molto chiara è disponibile sia per android per ios e quindi gestire interamente da lì il proprio profilo utente quindi il credito residuo e gigabyte per la navigazione essendo un operatore collegato a wind 3 veri mobile si appoggia alle loro linee per cui la stessa copertura è su tutto il territorio nazionale la velocità di navigazione in 4g e di circa 30 mega per secondo sia in download che sia in upload e quindi in linea con le altre compagnie della stessa fascia di mercato cosa molto importante veri mobile non ha accesso al 5g di wind 3 quindi ad oggi niente 5g per il veri mobile la velocità massima quindi raggiungibile come avete visto dal video è di circa 30 mega per secondo che sinceramente proprio pochi non sono 30 megabyte corrispondono circa a per farvi un'idea a un'eccellente adsl di casa ed è una velocità che tutt'oggi buona parte d'italia non riesce ad avere nemmeno con telefonia fissa quindi nella mia esperienza nelle zone di venezia udine milano non ho riscontrato nessun problema insomma la presenza di veri così come di o e che la rischia veramente di schiacciare ancora di più quei prodotti come post mobile copvoce tiscali che non davvero provato a creare alternative alle solite compagnie importanti come team vodafone e win 3 per oggi è tutto vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo per qualsiasi info scrivete pure nei commenti ciao alla prossima